e ora tose ascoltame ben so di rio provare una roba perché vorria fare calcossetta per accendere il desiderio del Piero accendere il desiderio e avevo letto un coso più avevo presente più ecco e ora che se scritto di fare dei piccole robe per accendere il desiderio del partners e ora niente ve dico aspettai che vado a sbassare il forneo mi piace il mio pigiame nuovo, il mio gargapiero, mi speravo in te una roba sexy ma vabbè io ero di rio dirve che insomma in più più che ieri ha scritto di accendere il desiderio del partner e ora mi avevo fatto le nes e ora vi spiego un attimo come che fa no come se fa le nes, c'è questa pastea che appare terra terra e ti metti in te una bacinetta con fila di acqua calda ti smissi va bene e sa un odore abbastanza che ti hai da sopportarlo dopo ti metti questa pastea in testa ciocca pacciocca te lavi come se ti devo fare lavarti i cavi e gli dice che ti hai da tenerti assù un'ora mi me pare di essere un vaso d'ergia in sto momento perché è a fa' un effetto terriccio mi ne vorrei dopo restare così come un vaso di terracotta speriamo bene so da humus praticamente so da quello che si mette sui campi pa disemo voglio essere fine ma sa da che roba la e ora speriamo che sta roba qua dopo quando che vi è in casa piero ottenere la sudore neanche che fosse vabbè e speriamo quando che vi è in casa piero di accendere il desiderio e soprattutto che se ne incorsa insomma ecco capivo dopo quando che te dopo che se è passato ora te te cavi sta roba se non isi a tutti i tacai te te lavi e te te fai messa in piega va bene e ora proviamo a vedere e faccio sapere se se che ha acceso il desiderio mi non so però vabbè ecco ciao a tutte